Ciao a tutti amici di Jovatec, con la guida di oggi voglio mostrarvi un fantastico software per la gestione del backup e ripristino del proprio dispositivo Apple e nello specifico per il proprio iPhone o iPad. Il software di cui vi parlerò oggi si chiama iCareFone ed è stato sviluppato dalla casa produttrice Tenorshare, una casa molto famosa, conosciuta nel mondo la quale ho già recensito anche in passato diversi altri loro prodotti. Per chi non dovesse conoscere iCareFone nasce appunto con l'idea di permettere all'utente meno esperto di andare a copiare ed eventualmente poi ripristinare tutte le proprie foto, video e documenti vari presenti nel proprio iPhone o iPad verso un PC o un Mac. Oltre questo però iCareFone permette di fare ulteriori cose. Adesso le andiamo a vedere semplicemente navigando sul loro sito web ufficiale per capire tutto ciò che permette di fare questo fantastico software. Se aprite una qualsiasi pagina web e nella ricerca di Google andate a inserire la parola iCareFone sul sito ufficiale Tenorshare.com mi raccomando avete la pagina dedicata al software in questione iCareFone. Come abbiamo detto le funzionalità principali sono quelle relative al backup e ripristino dei propri dati ma poi come potete vedere permette di fare ulteriori cose ovvero il backup intelligente dei dati in modo totalmente gratuito poi trasferire file multimediali senza alcuna limitazione con un solo clic scaricare applicazioni come ad esempio TikTok, Free Fire, BGMI e tantissime altre convertire, questa è una cosa molto importante e utile convertire il formato H in JPEG e questo anche in modo massivo se non ricordo male fino a un 1000 foto per volta attivare la modalità sviluppatore proiettare il proprio iPhone o iPad verso un PC ovvero fare quello chiamato Screen Mirroring del telefono ovvero dove tutto il mio telefono o iPad che sia ribalto il segnale verso il monitor del mio computer in questo caso al momento solo per Windows e posso comandare il mio dispositivo tramite il PC poi questo fantastico software è compatibile già con l'ultimo sistema operativo iOS in questo caso il 16 e con l'ultimo iPhone il 14 qui sotto scorrendo nella pagina web abbiamo nello specifico tutte le varie funzionalità che abbiamo elencato prima quindi possiamo andare a vedere cosa che permette di fare se torniamo su abbiamo attraverso questo pulsante la possibilità di effettuare il download gratuito del software iCareFone in questo caso per Windows mentre qui sotto per macOS col pulsante invece qua di fianco possiamo fare compra ora quindi acquistare una licenza dato che questo software è un software shareware quindi a pagamento le licenze sono di diverso tipo c'è la possibilità di acquistare quella mensile, annuale, a vita o un semplice anno e basta dato che c'è al momento anche una scontistica molto corposa se dovesse piacervi questo software testatelo, provatelo e poi acquistate eventualmente in sconto una delle varie licenze disponibili se torniamo indietro ed effettuiamo il download gratuito dell'applicativo vediamo come lo si installa e poi come lo si utilizza nelle sue funzionalità principali ovvero quelle relative al backup e ripristino una volta scaricato il pacchetto qui sotto siamo obbligati a spuntare e accettare i vari termini e condizioni con il pulsante cartella di installazione possiamo andare a modificare eventualmente il percorso di installazione del software e poi decidere se accettare o meno di aderire all'esperienza utente per mandare eventuali feedback alla casa Tenorshare durante il nostro utilizzo facciamo pure qua installa attendiamo la fase di installazione una volta installato se clicchiamo qua su iniziare apriremo il gestionale e dopo la sua apertura andiamo a vedere ora come lo si utilizza una volta aver cliccato iniziare si aprirà la schermata qua iniziale del software iCareFone dove vediamo adesso come lo si utilizza in home quindi qua in casa ci viene descritto cosa dobbiamo fare inizialmente per poter gestire e utilizzare il software iCareFone di qua sulla destra la possibilità di trasferire dei file multimediali verso iTunes o viceversa sul pulsante gestisci la possibilità di gestire tutto quanto il nostro iPhone o iPad per andare a backupare o comunque utilizzare tutto quello che c'è al suo interno tra foto e documenti vari effettuare backup e ripristino tutto quello che è il nostro iPhone o iPad oltre ai semplici file multimediali foto e video e documenti vari quindi anche backup di dati di app e poi su più strumenti tutto quello che è l'ecosistema Tenorshare ovvero tutti i software gestionali che ha ad oggi sviluppato Tenorshare per poter utilizzare al meglio il nostro dispositivo se torniamo qua in casa andiamo a vedere adesso come si utilizza il gestionale ovvero se prendete il vostro dispositivo io nel mio caso adesso sto utilizzando un iPhone se colleghiamo il cavo classico di ricarica al nostro dispositivo e poi il cavetto USB, l'altra estremità USB al nostro computer, PC, Mac che sia una volta collegato dobbiamo semplicemente andare a sbloccare il nostro dispositivo inseriamo quindi il nostro pin quando comparirà qua la schermata che ci dice che è stato riconosciuto dobbiamo fare autorizza, reinserire nuovamente il pin e una volta reinserito vediamo qua tutte le varie informazioni del nostro dispositivo e adesso abbiamo la possibilità finalmente di sfruttarlo questo gestionale per andare a effettuare quello che è il backup, ripristino dei dati o qualsiasi altra cosa di nostro interesse facciamo finta di andare a backupare e a ripristinare alcuni documenti quando cliccherete qua su gestisci abbiamo il menu sulla sinistra che ci dice cos'è che vogliamo gestire in questo caso fotografie, musica, video, contatti, app abbiamo diverse funzionalità in base a quello che cliccheremo di qua ci verrà proposta la schermata corretta e possiamo decidere, nel mio caso ho qua alcuni screenshot su questo dispositivo dove posso selezionare tutto e decidere se eliminare fare pulizia di quelle che sono le foto duplicate aggiorna oppure in altro aggiungere eventualmente degli album nascondere alcune cose esportare posso ricercare se ho tantissime foto solamente quelle da una certa data a una certa data dividere qua per anno, mese, giorno, esportare, importare quindi ad esempio se io volessi pescare una di queste foto o selezionarne più di una anziché tutte posso fare da qui esporta e dire ad esempio voglio esportare le immagini nel suo formato originale oppure jpeg quello che è foto live originale jpeg, move oppure video anche qua nel suo formato originale oppure mp4 dire in quale percorso vogliamo andare ad esportare il tutto questo è quello di default se no possiamo fare qua modifica e andare a scegliere noi dove andare ad esportare quando faremo qua clic su avanti dato che il software gestionale come vi dicevo è un software shareware vi permette di fare determinate cose con il periodo di prova gratuito se no in modo illimitato con quello registrato attraverso una licenza acquistata sul sito tenor share in questo caso ad esempio con il periodo di prova la sezione gestisci ci permette di gestire solo 15 file quindi se noi volessimo testare per vedere se effettivamente può essere di nostro gradimento questo gestionale fino a 15 file lo possiamo fare liberamente senza problemi backup e restore possiamo fare il backup e ripristino di solamente 10 dati e non tutto quello che è il nostro dispositivo e stessa cosa l'esportazione di foto con un click i trasferimenti da e verso iTunes l'eliminazione di duplicati la conversione il mirroring cioè tutto questo solo 10 file e lo screen mirroring solo 10 volte questo ci permette di utilizzare in modo completamente gratuito il gestionale se poi funziona a dovere e ci dovesse piacere possiamo eventualmente acquistare la licenza sul sito ufficiale dato che sono 3 file se voglio fare qua prova gratis posso farlo liberamente come vedete perché sono al di sotto dei 15 file quando verranno esportate se facciamo apri cartella vedrete che abbiamo qui tutte le varie nostre foto salvate questo è sicuramente molto più semplice nel caso in cui uno non fosse afferrato sul backup e ripristino di alcuni dati e questo fantastico software ci permette di andare a salvarci tutto con pochissimi click e con un'interfaccia grafica davvero accattivante e molto molto intuitiva una volta che ci siamo salvati il tutto questo potrebbe esserci utile nel caso in cui dovessimo poi andare a ripristinare il nostro dispositivo quindi mettiamo a caso che lo vogliamo vendere possiamo andare a salvare tutti quanti i dati effettuare il backup di qualsiasi cosa e dopo di che resettarlo tranquillamente tanto abbiamo tutto salvato sul nostro pc pronto per essere poi ripristinato successivamente con il nuovo dispositivo se torniamo di qua possiamo fare la stessa cosa all'inverso ovvero importare dei dati quindi ci interessa dal nostro computer andare a pescare dei dati e importarli verso il nostro iphone o ipad possiamo utilizzare la funzione importa scegliere i file o selezionare una cartella intera se facciamo ad esempio scegli file anche qui sempre prova gratuita nella sezione immagini avevamo ad esempio qua iphone di giovanni quelle tre foto che abbiamo prese prima se facciamo apri ci dice che per utilizzare la funzione importa dobbiamo installare il programma iCareFone anche nel nostro dispositivo quindi possiamo decidere o di andare a scansionare il qr code o accedere all'apple store scaricare iCareFone e dopo di che una volta installata possiamo sincronizzare il nostro dispositivo con il nostro computer andiamo quindi a mettere la nostra solita password per sbloccare il dispositivo una volta sbloccato se andiamo nell'app store se non vogliamo scansionare il qr code ci basterà cercare iCareFone facciamo ottieni per scaricarla la installiamo inseriamo la nostra solita password una volta installata l'apriamo gli diciamo di se vogliamo consentire l'accesso a tutte le nostre foto gli diciamo di sì e ora di qua clicchiamo che è stato installato e vedete che ha iniziato la nostra importazione e ci dice che tre foto sono state importate con successo infatti come potete vedere le abbiamo qua duplicate e volendo con la fantastica funzione di pulizia dei duplicati possiamo andare a scansionare e farci dire qui quali sono quelle per lui duplicate vedete che ha pescato le foto pari pari identiche se facciamo elimina sempre in modo gratuito al momento lui ci avrà eliminato così quelle foto che abbiamo appena importato e siamo tornati allo stato originale come potete vedere ha diverse funzionalità davvero molto molto belle carine utilissime la stessa cosa possiamo farlo oltre che con le foto con la musica i video i nostri contatti le applicazioni ci permette di scaricare le app direttamente da qua senza doverlo fare direttamente dal nostro iphone come potete vedere ha riconosciuto già che ho scaricato prima iCareFone poi qui dentro posso decidere di scegliere un'app di mio interesse fare tranquillamente poi il download e me la ritroverò in automatico sul mio dispositivo poi abbiamo qua quella per relativa ai libri ai segnalibri delle chiavette usb gestione dei nostri file quindi sfogliare l'intero iphone e andare all'interno del nostro iphone a ripescare eventualmente anche in questo caso ad esempio le foto che abbiamo visto prima in download e tutto quello che abbiamo scaricato quindi possiamo andare a decidere di importare o esportare file come se fosse un classico hard disk esterno che noi abbiamo collegato sul nostro pc questa cosa anche la gestione di iCloud quindi possiamo andare a utilizzare anche questa funzionalità che al momento come leggete è in fase di sviluppo ma a breve sarà disponibile se torniamo poi indietro possiamo vedere le altre funzionalità quindi quelle di trasferimento dei file multimediali da iTunes o verso iTunes la funzionalità backup e ripristino quella più importante di tutti dove possiamo andare a backupare come vedete un sacco di cose per esempio Whatsapp e allegati le nostre foto video presenti nell'app documenti musica fotografia messaggi tutto quello che è presente all'interno del nostro dispositivo per effettuare il backup qui sotto a parte selezionare quello che ci interessa o meno backupare abbiamo la possibilità di selezionare un percorso eventualmente diverso da quello predefinito tramite il classico modifica una volta che abbiamo scelto cosa backupare possiamo cliccare qua su backup attendere che venga backupato il tutto ci viene richiesto di inserire il nostro codice pin come al solito una volta inserito il codice pin verrà ultimata la funzione di backup e grazie a questo backup possiamo poi andare uno a visualizzare adesso l'elenco quindi tutte le volte che abbiamo eseguito il nostro backup poi se torniamo qua alla funzionalità backup abbiamo la possibilità di effettuarne eventualmente un altro e poi con la funzione ripristina oltre a visualizzare quelli che abbiamo già eseguito possiamo modificare con la matitina le note quindi segnarci noi eventualmente un qualcosa che ci fa intuire meglio a cosa si riferisce questo backup eliminarlo se non dovesse servirci e poi se facciamo visualizza ci fa vedere tutto quello che lui ha backupato all'interno di quel backup poi schedulato come potete vedere sta dicendo che ha backupato 13 foto alcuni documenti il nostro calendario vedi poca roba perché questo telefono qua io l'avevo ripristinato quindi all'interno non c'è davvero nulla però grazie a questa cosa qui possiamo vedere tutto ciò che lui è riuscito a backupare e dopo di che possiamo fare una volta finita la sua scansione qui sotto eventualmente il ripristino di tutti quanti i dati nel caso in cui ci dovesse servire poi ripristinare il backup una volta aver formattato il nostro dispositivo come potete vedere comunque è molto molto semplice da utilizzare davvero fatto bene funziona alla grande ve lo consiglio proprio per gestire al meglio i vostri dispositivi principalmente quando dovete appunto poi dismettere il vostro smartphone o tablet che sia per venderlo o regalarlo a qualcuno ed è sicuramente molto più facile che andare a salvare singolarmente manualmente tutti quanti i vari dati presenti al suo interno quindi dei soldi davvero spesi bene e se doveste acquistare la licenza potete farlo vabbè cliccando anche qua vedi prezzi e con questa icona a forma di un mino possiamo fare poi la registrazione del prodotto inserendo la mail e codice che c'è stato rilasciato durante il nostro acquisto quindi vi consiglio di andare ad acquistare una licenza dopo averlo utilizzato bene a fondo perché è un prodotto davvero fatto bene e molto molto valido con questo è tutto spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su jovatec.com grazie a tutti grazie a tutti